Buon soir, bienvenue ici a Valgrande. Pensate che io stia un po' perdendomi? No, no, in realtà io voglio darvi degli indizi per parlarvi di quello che sta avvenendo a Rovigo in questi giorni e vi voglio aiutare anche con queste, che sono le opere realizzate da Toulouse-Lautrec. Infatti, Toulouse-Lautrec è conosciuto da sempre in tutto il mondo per la sua arte dedicata ai manifesti pubblicitari. Qui a Rovigo, presso Palazzo Roverella, dal 23 febbraio al 30 giugno invece, sarà possibile visitare la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec che vede la parte artistica di questo personaggio dedicata alla pittura. La pittura che trova lo spunto nei rioni di Parigi, in particolare nel rione artistico chiamato Montmartre. Infatti ci sarà modo di fare una passeggiata tra i vicoli di Parigi, tra la realtà parigina, approfondendo e visitando questa mostra qui a Palazzo Roverella. È un invito quindi a venirci a trovare qui a Valgrande, a trascorrere qui a Valgrande un fine settimana e conoscere le atmosfere magiche del nostro territorio e poi conoscere le atmosfere parigine della mostra di Palazzo Roverella a Rovigo. Per il momento vi aspetto. Ciao! Ciao!